Obiettivo playoff che sia decimo posto o qualcosa di più a questo punto poco importa. Di certo la brusca sconfitta di Latina ha frenato le ambizioni di scalata del Foggia che in queste ultime quattro giornate che separano dal termine della stagione regolare dovrà unicamente provare a fare quanti più punti possibili per guadagnarsi la possibilità di prendere parte alla coda degli spareggi. Al momento i rossoneri sono decimi ed occupano quella che è l'ultima posizione che porta a spareggiare per la promozione. Un punto in più del Cerignola, undicesimo, atteso allo Zaccheria la penultima di campionato. Condizionale tuttavia obbligatorio perché i posti nel Girone C potrebbero aumentare nell'eventualità. Il Catania vincesse stasera la Coppa Italia ma precipitasse in zona playoff. A quel punto spazio anche per l'undicesima con la quarta che guadagnerebbe in tal caso direttamente la fase nazionale. Ma a 360 minuti dal termine della stagione regolare ogni tabella diventa superflua. Il Foggia di cui alla fine giocherà due volte allo Zaccheria ed altrettante fuori. Venerdì si torna dinanzi al proprio pubblico per affrontare la casertana, poi trasferta a potenza, derby di capitanate e infine chiusura sul campo del Monterosi. Questo il calendario che attende Rizzo e Soci che da ieri hanno ripreso a lavorare per preparare la sfida in programma tra tre giorni contro i campani allenati da un foggiano d'adozione, Vincenzo Cangelosi, ex fido di Zeman. Cudini spera di riavere tra i convocati Santaniello assente dalla trasferta di potenza col Sorrento in cui l'attaccante si procurò un guaio muscolare. Santaniello è sulla strada del recupero ma il suo inserimento a scopo precauzionale non potrà che essere graduale per evitare ricadute.